Bricomaghi I bambini, gli insegnanti e i genitori trovano su Bricomaghi ogni settimana nuovi tutorial per realizzare giochi didattici, decorazioni, manufatti, giochi didattici in particolare a carattere matematico, alfabetico, quindi molto utili anche in presenza di bisogni educativi speciali. Per ogni tutorial trovi le istruzioni scritte sul nostro blog bricomaghi.blogspot.it e video qui sul nostro canale blog di Bricomaghi, quindi iscriviti al canale per non perderti neppure un video, lasciaci tanti like e pollici in su per farci capire che ti piacciono i video, ma soprattutto commenta una volta che avrai realizzato quello che ti proponiamo. Ti lascio alla visione del tutorial. Ciao! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video di Bricomaghi. Oggi parliamo di calendari dell'avvento e dell'attesa, con questa nostra proposta di Bricomaghi, parliamo di un calendario letterario, cioè ispirato al nostro progetto lettura Christmas Carol. Non è soltanto ispirato, ma vi è proprio incentrato. È un calendario molto molto grande, come potete vedere. Le istruzioni per realizzarlo le trovate come sempre sul nostro blog bricomaghi.blogspot.it E racconta la storia dello zio Sgrugge, infatti si chiama Uncle Sgrugge Christmas Waiting Calentar. Ci sono degli elementi grafici molto molto belli, fotocopie tratte dalle prime illustrazioni di Christmas Carol, come appunto potete vedere. Le taschine che sono appunto fatte per accogliere appunto le sorprese non sono in sequenza, quindi il bambino va a cercarle ogni volta. La casella dedicata al numero 24 è naturalmente più grande ed è accompagnata da questo simpaticissimo topolino realizzato in questo caso all'uncinetto. Ma qual è la particolarità di questo calendario? Ogni casella raccoglie e accoglie delle sorprese legate appunto a canto di Natale. Quindi troveremo innanzitutto dei bigliettini che consentono al bambino di andare a scoprire qualcosa di più sul libro, per cui è fondamentale avere una copia di Christmas Carol. Questi bigliettini sono semplicissimi da realizzare e sono una specie di caccia al tesoro per andare a scovare frasi, parole, espressioni all'interno del libro. Pagina 56. A quale gioco di società si sta giocando sulla pagina? Quindi dobbiamo andare a rispondere a questa domanda. Bigliettini li possiamo fare come vogliamo. Possono essere indicazioni, domande, descrizioni che il bambino è invitato a fare a parole sue di quello che legge magari all'interno di quella pagina. In questo modo, alla fine dell'avvento, avremo anche letto tutto il racconto, avremo approfondito gli elementi e ci saremo soffermati su alcuni appunto elementi che riteniamo importanti. Naturalmente quest'idea può essere sviluppata anche con qualsiasi altro romanzo. Quello che io consiglio come Bricomaghi è quello di adottare un classico a Natale, quindi di utilizzare questo tipo di calendari per un grande classico, le cronache di Narnia ad esempio. Ma ci tenevo moltissimo a dedicarlo tutto quanto alla storia dello zio Sgrugge. Sempre all'interno delle caselline, oltre a questi biglietti, troveremo degli elementi per realizzare poi alla fine dell'avvento dei puzzle. In questo caso io ho utilizzato semplicemente delle fotocopie a colori, anche qui delle prime illustrazioni di Christmas card, che sono molto molto belle. Naturalmente sul calendario ho concepito anche una tasca, ed è questa, una tasca molto grande, per poter accogliere tutti gli elementi che troviamo all'interno delle caselline e che dovremo utilizzare alla fine. Quindi i nostri bigliettini e gli elementi dei puzzle che poi appunto andremo a comporre durante le festività natalizie. È un calendario che permette poi naturalmente di accogliere anche altre sorprese, cose dolci da mangiare, cioccolatine e caramelle, tutto quello che desideriamo, come potete vedere. Anche quindi piccole sorpresine. Ma la cosa importante è che ci siano i bigliettini, proprio per andare ad approfondire Christmas Carol e in particolare appunto gli elementi del puzzle, per poterci poi divertire a realizzare questi grandi puzzle con le illustrazioni, quelle che ci piacciono di più di Christmas Carol. Quindi in questo modo la storia dello zio Scrooge entrerà un pochino nel cuore e sarà adottata sia a casa che a scuola. Vi ricordo che per realizzare il nostro calendario dell'avvento dedicato a Uncle Scrooge trovate l'istruzione sul nostro blog bricomaghi.blogspot.it. In questo caso io l'ho realizzato molto molto grande, molto molto decorativo, semplicemente a partire da un semplice pezzo di cartone rivestito di stoffa, quindi come sempre nello spirito di bricomaghi il tutto è realizzato in grandissima semplicità, un pochino di feltro e di gomma. Eva. E poi naturalmente le fotocopie che sono estremamente decorative. Io con questo vi ringrazio, vi auguro un buon avvento, spero che realizzerete in tanti questo calendario dedicato al progetto lettura Christmas Carol e che magari vi ispirerete anche per realizzare altri calendari dedicati ad altri classici. Nello spirito di adottiamo un classico per Natale. Ciao, alla prossima! Ciao!